Alcuni potrebbero pensare che è da fighi, ad esempio provare magari così per farsi vedere dagli amici e per stare con i più grandi. E invece no, l'ho capito anche io, ti fai solo male da solo. Si chiama War Not Tobacco Day, letteralmente giornata mondiale senza tabacco ed è la ricorrenza, celebrata annualmente il 31 maggio, lo scopo della quale è di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco. Una campagna di sensibilizzazione e di riflessione contro i rischi per la salute che il tabagismo causa, considerando i numeri davvero allarmanti recentemente diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 3,3 milioni le morti legate al tabacco, tra quelle causate da malattie respiratorie croniche, cancro ed esposizioni al fumo passivo. E pensate che solo quest'ultimo, lo scorso anno, ha provocato il decesso di più di 60.000 bambini sotto i 5 anni di età. E poi i danni all'ambiente. Pensiamo per un attimo ai mozziconi, i quali contengono moltissimi inquinanti, nicotina, benzene, gas tossici e composti radioattivi come Polonio 210 e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro. Contro tutto questo si sono mobilitati insegnanti e studenti delle scuole elementari e medie appartenenti ai tre istituti comprensivi di Sondrio. A ripulire la città dalle cicche, abbandonate con una regolarità esasperante da altrettanti fumatori, questa mattina c'erano loro. Abbiamo voluto proprio sensibilizzare i bambini sul fumo e sull'importanza sia dell'impatto ambientale che può avere il mozzicone di sigaretta gettato a terra, sia sul fumo passivo che può essere nocivo tantissimo per i bambini. Fatima, perché è giusto raccogliere i mozziconi che la gente, che i fumatori abbandonano per strada? Perché se no inquinano la città o fanno ammalare le persone e se qualcuno si ammala può morire. Pensavamo, quando oggi abbiamo raccolto le sigarette, che le persone fossero più educate, ma invece non lo sono tante. Coautori dell'iniziativa, partita alle 8.30 di questa mattina, la TS della Montagna, l'Ufficio Scolastico Territoriale, assieme a SECAM, S.P.A. e Banca Popolare di Sondrio. Se qualcuno fuma e devono lavorare, qualcuno inquina il lavoro e si può ammalare. Non fumando si salvano anche tante vite. Possiamo rischiare anche noi di morire perché siamo esposti al fumo passivo. Mio nonno fumava tanto e poi è morto. Domani l'atto conclusivo di un progetto intrapreso dagli insegnanti già da qualche giorno con le proprie classi. Nella centrale Piazza Campello, alle ore 11, tutti i mozziconi raccolti lungo le vie cittadine verranno depositati dentro un grande recipiente in plexiglass dalla forma di una enorme sigaretta. Pareti trasparenti a dimostrare quanto danno a persone d'ambiente il fumo riesca inesorabilmente a provocare. Non fumare!